Un'unica prova orale che si affronterà con tanto di igienizzante, mascherina e con un'autocertificazione in cui si attesta di non avere febbre. E' questa la maturità ai tempi del coronavirus che prende il via in tutta Italia il 17 giugno. Direi che per quanto riguarda la nostra scuola è tutto pronto, ci siamo incontrati, abbiamo stabilito le modalità di questa nuova maturità che per alcuni versi non è semplicemente tutta in presenza, ha anche una scansione diversa da quella precedente. Quindi ci sono delle novità che purtroppo i ragazzi hanno appreso in corso d'opera, nel senso non erano preparati a quello che sarà. Per alcuni versi sarà facilitata, se vogliamo, perché non ci sono gli iscritti, per altri versi sarà complicata perché ci sono delle modalità nuove. Tante le incertezze degli ultimi mesi e tra le novità dell'ultimo minuto anche l'obbligo di presentare un elaborato sulle materie di indirizzo. Questa è stata veramente una novità dell'ultimo minuto. I ragazzi hanno dovuto preparare una sorta di elaborato, l'hanno chiamato, sulle materie di indirizzo, che è una novità totale nel caso del liceo scientifico, una sorta di elaborato appunto di matematica e di fisica. Su un tema che gli insegnanti hanno dato a fine maggio, su cui loro hanno lavorato e hanno riconsegnato in modalità mail entro il 13 di giugno e su questo poi dovranno fare una prima parte del colloquio. C'è poi una seconda parte del colloquio che prevede l'analisi di un testo d'italiano, anche in questi termini non era mai stato svolto l'esame. E quindi ci sarà proprio la seconda parte italiano, terza parte invece dovrebbe riprodurre, la terza, la quarta e la quinta parte dovrebbero riprodurre le modalità dell'anno precedente.